Sentenze Juve, a Bodi, la precarietà non aiuta, la giustizia sportiva va riformata. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Il ministro dello sport, qualcosa deve essere cambiato in modo che le decisioni siano comprensibili e tempestive, rispettando la reputazione della competizione. Farò la mia parte. Spero con i miei colleghi del governo e ascolterò i partiti, in modo che ci sia una riforma della giustizia sportiva. Il ministro dello sport, Andrea Bodi, interviene così nel dibattito sulla decisione del collegio di garanzia del CONI sulla pena di Juve in caso di plusvalenze. La riforma e non entrerò mai nel merito della frase, ha proseguito a Bodi, ma questa precarietà non aiuta, dove c'è competizione, la certezza della frase deve essere composta con gli interessi generali. Qualcosa deve essere cambiato in modo che le decisioni siano comprensibili e il tempo di rispettare la reputazione della concorrenza. Grazie. 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 Grazie.